Provato a riaccendere una partita che il Pescara per tanto tempo aveva dominato. Prima di raccontarci il gol vi chiedo dove vi ha messo così tanto in difficoltà il Pescara. Cosa avevate sbagliato soprattutto nel primo tempo? Ultimamente abbiamo sbagliato forse l'approccio alla partita. Non riusciamo a partire forti, subiamo un po' troppo la pressione delle altre squadre. Purtroppo quando siamo così in classifica magari entra un po' di paura, ma ce la dobbiamo levare perché il secondo tempo abbiamo fatto un'altra partita e riusciamo a mettere in difficoltà tutti. Hai fatto pressione su Giambo che ha perso il pallone e poi è corso bene. Palla al piede, ha messo il pallone all'angolino. Raccontaci intanto il gol. Sì, abbiamo recuperato palla in pressione alta. È questo che magari dobbiamo cercare di fare un po' di più, avere un po' più di coraggio. Capisco che in questi momenti non è facile, però poi ci nascono i gol come oggi è andato il mio. Ma anche altre volte abbiamo creato tante occasioni. Dobbiamo avere un po' più di fiducia a noi stessi. Venivate da una vittoria netta, ampia, che aveva anche un po' spaventato a Pescara quella di Siena. Oggi invece il Pescara ha sembrato onestamente padrone del campo per gran parte della partita. Le chiedo dei meriti vostri o meriti del Pescara? Sicuramente sapevamo che affrontava una grande squadra. Il Pescara non è, credo, non è la sua ambizione essere lì nel playoff, ma penso che doveva fare un campionato di vertice. È una grandissima squadra. Se è visto, noi però in casa dobbiamo fare sicuramente qualcosa in più. Dobbiamo cercare almeno di incominciare a fare punti, soprattutto in casa.